Come prima dicevamo invece qualcuno è vivo e vegeto. Dunque devo dire ad onore del vero che tutti avete pensato che la mia domanda fosse in effetti riferita ad un'altra persona, quindi a chi ha detto nella storia italiana il potere, il potere, il potere, io sto parlando un po' rumena però mi potete capire lo stesso, vero? Qua su Radio Rock. Buono giorno, buono sabato di Radio Rock. Dicevo il potere, logora, chi non ce l'ha? Chi l'ha detto? Voi avete... Allora, scusate, io mi scuso, non è colpa mia. Bastardo senza tempo. Lui e lei, bastardi senza tempo, il rock senza tempo è un conto. Dejan, Dejan, vestito da fantasma con tanto di casco. Dejan, questa bastarda dentro di Daniela, prendete pure i microfoni bastardissimi, senza tempo voi. Che paura. Io immaginavo per i corridoi della radio, un fantasmino. Un fantasmino, Daniela, questa me la paghi? Questa me la paghi. Dejan, come ti è venuto in mente di entrare in radio con tanto di casco? Facciamo uno scherzo a petta? Bastardo. Mi sono vestito da fantasma scuterista, entriamo. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Che pasta. La registra. Buono giorno, buono sabato di Radio Rock. Dicevo, il potere è logora. Chi non ce l'ha? Chi l'ha detto a voi? Allora, perché di sabato mattina tu invece di fare tante cose, di stare a casa tranquillo? Vieni, vieni, vieni al microfono, caro Dejan. Senza casco, non riesco a parlare. Fai bene, peggio ti deve succedere. Insomma, perché questa cosa, Dejan? Sei bastardo, davvero. Te l'hanno detto che ho salto per qualsiasi cosa. Sì, sì, me l'hanno detto. Sennò non c'era gusto a farlo. Va bene, va bene. Dunque, allora Dejan che conoscete ovviamente perché la mattina si prodiga appunto a cazzeggiare in giro per la città di Roma e non solo. C'è questa... Allora, facciamo un po' di pubblicità a questo punto. Questo ragazzo bastardo che gira normalmente con il motorino. Oggi non è entrato il radio con il motorino. Le cuffie... Le cuffie, vabbè, senza cuffie. Senza cuffie, vai. Sì, sì, ti sento forte e chiaro. Ma no, io volevo fare... È tutta colpa di Daniela, dai. Non volevo fare nulla. Daniela mi ha detto che voglio fare uno scherzo a petta e... Allora, dove ti troviamo normalmente, Dejan? La mattina, quando ci troviamo? Il martedì mattina con Emilio. Emilio non avrebbe fatto l'urlo che fai tu e quindi abbiamo deciso di farlo a te perché Emilio... Radio Scooter. Sì. Poi lo vedrete lo spot, è lunedì lo pubblicherò. Esatto. Adesso avete solo sentito l'audio, quindi vi è venuta la curiosità. Allora, abilito, scrive a Petta e mi ha sfondato le casse con il tuo strilletto. Dovrò chiedere i danni a Radio Rock. Te lo dico io a chi li devi chiedere? A Dejan e a Daniela. Ecco, a loro due assolutamente. Vabbè, che grandissimi bastardi. Vabbè, io vi ringrazio per questo, mi avete fatto prendere gli infantioli. Grazie a te. E tu, come mai? Daniela, non sei andata a mangiare il tuo formaggetto che normalmente ti mangi? Oggi no, oggi è posticipato. Ah, ecco. E non mi hai detto, ho visto questo fantasmino che sono pure preoccupata. Insomma, non pensavo, no, no, io sono... Ho solo visto questo fantasmino che si aggirava per i corridoi della radio, non pensavo che fosse diretto verso di te. Vabbè, me ne ricorderò, me ne ricorderò.